Abbiamo già buttato il sale in campo però per motivi di sicurezza non ho fatto il video Vediamo Andrea Palazzi sta buttando il sale in giro per tutto il camp Grande, grande Oh, fammi cercare di fare, vieni qua Eccoci Dai, dai, dai Porco Dio Andrei, saluta Con forza Forza Inter A tutti un saluto particolare a Samuale e Tony Forza Inter